Presidente, un buon pareggio dell'Aurora. Sì, una partita finalmente giocata bene, giocata giusta. Penso che non c'è niente da dire sul risultato. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro. La fine era una partita giocata forse perché anche siamo tranquilli entrambe le squadre, avendo raggiunto loro e il loro obiettivo e noi avendo poco da chiedere a questo campionato. Quindi è uscita una partita, penso, piacevole. Purtroppo 0-0, ma spesso si dice che le partite, giocate bene, finiscono 0-0, quindi può darsi che sia questo il caso. Qualcosa da rimproverarsi per questo campionato? Si poteva fare qualcosa di in più? Per forza, se siamo ultimi era difficile fare peggio. Comunque, noi eravamo una matricola in questo campionato, cercheremo di fare esperienza, di ripartire nel modo giusto. Ci siamo resi conto che ovviamente abbiamo sbagliato tante cose, io in prima persona, ma probabilmente anche altri insieme a me, perché siamo un gruppo, tutti alla prima esperienza in questa categoria. E niente, ricominceremo quando la matematica ci darà che siamo in promozione, ricominceremo dalla promozione. Ben quattro cambi tecnici nel corso della stagione. Sì, perché abbiamo cercato di porre rimedio a delle lacune che evidentemente a questo punto, lo possiamo dire, non potevano essere soltanto della guida tecnica, ma evidentemente erano anche, in qualche caso, della società o del parco giocatori. Poi ovviamente ci sono degli episodi che influenzano una stagione, noi abbiamo avuto molti episodi a sfavore, però non ci attacchiamo a quelli, probabilmente siamo nel posto dove meridiamo di essere. Perfetto, un giudizio finale sul Gallico Catone? Il Gallico Catone quest'anno penso sia stata per tre quarti del campionato, sia stata la vera sorpresa del campionato, perché una squadra giovane, allenata benissimo, io già l'ho detto all'andata, una squadra che gioca bene, che ha lanciato tanti tanti giovani, ha fatto tanti tanti punti, tutti meritati, forse ha avuto un piccolo calo in questo finale di stagione, ma è una cosa che in una squadra che è giovane ci sta, poi oggi faceva anche caldo, quindi può darsi che anche oggi abbiano fatto una prestazione sotto dono per il caldo.